Prendiamo ora in considerazione una tipologia specifica di raccolta di contenuti a bassa interattività, ossia la lezione frontale in aula online. Ma com'è possibile rendere questo momento di apprendimento il più efficace possibile? Vediamo quattro possibili strategie. La prima strategia è collocare il tema della lezione che si sta per svolgere all'interno della struttura del corso e in relazione agli altri contenuti già visti. Lo si può fare utilizzando una mappa concettuale, una linea del tempo o la schematizzazione che si ritiene più efficace. Ad esempio, se si parla di architettura romanica si può ricordare che si è partiti dall'arte rupestre a inizio del corso, che si terminerà con l'arte barocca e che con la lezione sull'architettura romanica si è a metà del percorso. In questo modo gli studenti hanno una visione di insieme ed è più facile introdurre confronti fra periodi diversi e sottolineare gli elementi di continuità e discontinuità da uno stile all'altro. La seconda strategia è lavorare sulla struttura narrativa della lezione. Quando noi raccontiamo qualcosa in modo consapevole o inconsapevole adottiamo una struttura narrativa che non è solo una scelta di stile ma che è anche il filtro secondo il quale portiamo i contenuti ai nostri interlocutori suggerendone anche una chiave di interpretazione. Le strutture narrative sono diverse possono essere più o meno efficaci rispetto al contenuto e al risultato di apprendimento legato a quel contenuto. Una struttura narrativa temporale può ad esempio aiutare la comprensione quando si affrontano cicli produttivi perché vengono illustrate in modo conseguenziale le varie fasi e le relazioni fra di esse. Una struttura tematica aiuta invece a vedere un particolare aspetto o argomento da più punti di vista e in modo trasversale. Ad esempio le tipologie di edifici religiosi e gli stili architettonici nelle diverse culture. Se invece gli studenti devono sviluppare la capacità di valutare informazione, idee o contesti specifici e individuare strategie e possibili interventi possono risultare molto efficaci le strutture narrative che partono da problemi o domande perché stimolano la riflessione. Ad esempio come si può affrontare il problema delle continue esondazioni del seveso? Oppure che cos'è che ha causato il disastro del Vaillon? O ancora i processi chimici restano invariati quando si tratta di biochimica? Un altro approccio narrativo utile in molti casi è quello induttivo che parte da esperienze ed esempi concreti per arrivare solo in un secondo momento alla teoria. Ad esempio mostrare esempi di deformazioni dei binari ferroviari prima di affrontare le cause di deformazione dei metalli e sollecitando magari e ripercorrendo in essi causa-effetto. La terza strategia che si può adottare per aumentare l'efficacia di una lezione frontale è fare molti esempi concreti. Come seri umani infatti siamo più portati a ricordare informazioni concrete rispetto a idee astratte e può quindi risultare molto efficace quando si presenta un concetto complesso è suggerire all'inizio un'immagine metaforica che aiuti ad averne una visione d'insieme prima di entrare nell'analisi di dettaglio. I risultati di apprendimento attesi, ad esempio, possono essere rappresentati come la meta di un itinerario a cui la guida deve condurre. Ma anche il mostrare esempi reali, meglio se accompagnati da immagini, aiuta la comprensione, la memorizzazione e il successivo recupero delle informazioni. Attenzione però perché non è sufficiente raccontare esempi concreti per essere sicuri di supportare l'apprendimento. Il pericolo infatti è che gli studenti ne memorizzino solo gli aspetti più superficiali ma non l'idea sottostante. In alcuni studi sono stati affrontati con alcuni studenti problemi concreti e dopo pochissimo tempo sono stati proposti loro dei problemi simili ma in contesti differenti. Nonostante avessero appena visto e risolto una situazione analoga, in pochissimi sono riusciti ad astrarre la soluzione dal primo problema per riapplicarla al secondo. Come fare allora perché l'uso di esempi non diventi un elemento di distrazione ma al contrario un aiuto? Ad esempio si può ripercorrere più volte il passaggio dall'esempio alla concettualizzazione astratta e viceversa, accompagnando il collegamento tra i dettagli e la struttura sottostante. Perché se questo collegamento diventa familiare per lo studente l'esempio diventa realmente la chiave per un recupero più immediato dei concetti e delle teorie di sottofondo. Un'altra cosa che si può fare è rendere esplicito nella spiegazione quali sono gli aspetti più salienti e rilevanti dell'esempio perché non sempre gli studenti sono in grado di individuarli in autonomia. La quarta e ultima strategia che vediamo è legata invece al concetto di doppia codifica. Ma cos'è e perché è così importante la doppia codifica? Quando ci vengono presentate informazioni sia visuali che testuali per elaborarle attiviamo canali differenti e automaticamente le colleghiamo fra loro. In questo modo andiamo a sollecitare un processo elaborativo più complesso rispetto che sollecitare un solo canale e diventa anche più probabile poi un richiamo di queste informazioni. Anche in questo caso è bene avere alcune accortezze come integrare in modo corretto testi e immagini perché se il testo non è posizionato in modo corretto c'è il rischio che si crei un carico cognitivo eccessivo e venga selezionato in automatico un solo canale di codifica. È così com'è consigliabile evitare sfondi grafici, musica o animazioni che non aggiungono valore ai contenuti proprio per evitare che l'attenzione si disperda che lo studente non si focalizzi sulle informazioni salienti.